Un saluto e bentrovati alla voce delle istituzioni. Oggi incontriamo Danny Dorigo che è il direttore dell'Istituto Cultural di Incesa Dejean. Salve Danny, grazie per aver accettato l'invito. Buongiorno Giovanni, grazie a voi e un saluto a tutti i nostri telespettatori. Siamo in un anno molto particolare perché ricorre il centenario della tripartizione del popolo ladino. Vogliamo partire dunque con un po' di storia. Sì, quest'anno, proprio il 21 gennaio del 2023, cade il centenario di quello che è stato forse il provvedimento politico-amministrativo che più ha segnato la storia del popolo ladino, ovvero quella decisione da parte del governo fascista è uno dei primi provvedimenti in realtà del regime, cioè quello di spartire il popolo ladino storico, ovviamente parliamo dei ladini sellani, le cinque valli ladine attorno al Sella, quindi Valbadia, Valgardena, Val di Fassa, Livina Longo, Colle Santa Lucia e Cortina d'Ampezzo, dividerlo politicamente e amministrativamente in tre province e successivamente insomma in due regioni. Quindi questo è un aspetto che molti non conoscono perché molti pensano che l'attuale assetto anche amministrativo politico derivi dai fatti della Prima Guerra Mondiale. In realtà al termine della Prima Guerra Mondiale questi tre comuni ladini della provincia di Belluno erano rimasti con quello che era chiamato allora il Tirolo Cisalpino, ora potremmo dire il Trentino Alto Adige e quindi fino al 1923 amministrativamente dipendevano da Trento e quindi Bolzano. Poi nel 1923, proprio come abbiamo detto, con un decreto firmato dal Duce nel 21 gennaio del 1923, questi tre comuni vengono staccati dal Tirolo Cisalpino, dalla provincia di Bolzano e Trento e annessi alla provincia di Belluno. Nel 1927 invece la Val di Fassa passerà dall'Alto Adige, dal Sud Tirolo, alla provincia autonoma di Trento, la provincia di Trento e quindi lì si compie quella che è definita tripartizione. Quando si parla però di Ladini in provincia di Belluno la questione non è proprio così semplice, vogliamo in un minuto fare un po' un riassunto di questa divisione che purtroppo si respira anche dal popolo ladino-bellonese. In realtà la questione è molto complicata e quindi in un minuto effettivamente è molto difficile spiegarlo. Sicuramente questo aspetto che deriva dalla storia è un aspetto fondamentale, poiché fin dalla fine dell'Ottocento in questi tre comuni storici come negli altri comuni ladini storici nasce, ovvero si scopre questa coscienza ladina e quindi queste tre comunità arrivano da un percorso molto più ampio proprio in termini temporali, in termini storici e proprio questo aspetto storico probabilmente è quello che più divide, anche se non mi piace dividere, io dico differenzia. Secondo me non è impossibile poter arrivare a una collaborazione o comunque a un maggior dialogo fra queste diverse anime se noi partiamo da un presupposto che anche in provincia di Belluno ci sono due anime ladine diverse proprio per storia, cultura ma anche proprio per sentimento e quindi se noi immaginiamo che c'è questo popolo ladino in provincia di Belluno ma non c'è una ladina omogenea che parte da Rabba a Cortina d'Ampezzo, arriva ad Agordo e a Perarolo per prendere gli estremi geografici, sarebbe tutto più semplice, speriamo di andare in questo senso. Tra le attività che riguardano il centenario c'è anche il convegno, un convegno nazionale. Stavo proprio per dirlo, che proprio per ricordare quella tappa ma soprattutto per dare una prospettiva a quello che ha significato quel provvedimento fascista di allora, l'istituto in collaborazione anche con gli istituti ladini di Fassa e della Valbadia abbiamo programmato questo convegno nazionale non riesco ad anticipare ancora le date precise perché stiamo ancora aspettando la disponibilità di alcuni relatori di carattura nazionale quindi non sono definite le date però quello che possiamo dire sicuramente si svolgerà a Cortina d'Ampezzo durante i mesi estivi e sarà proprio un focus sì su quello che è stato allora, cento anni fa, ma soprattutto su cosa ha rappresentato questa decisione, sul fatto che lo Stato italiano sostanzialmente non abbia ancora posto rimedio a quella decisione di allora e soprattutto come il popolo ladino vede la sua unità in un futuro più recente. una specie di stati generali del popolo ladino. Dicevamo anche prima fuori onda, voi non vi occupate solo di promozione linguistica ma avete anche tante altre attività, bisogna però farle conoscere anche agli associati, tra virgolette, su questo avete in mente un piano di ristrutturazione diciamo della comunicazione. Si diciamo che qui tocchi se vuoi un po' la nota dolente, nel senso che noi soprattutto durante la fine di questo anno, che è stato un anno, il 2022 è stato un anno molto intenso e ci siamo un po' confrontati anche fra di noi, soprattutto con i vari organi, in particolare dal Consiglio di Amministrazione è emersa questa esigenza di comunicare di più la nostra attività perché come dicevo appunto l'attività è molto corposa in tutti i vari settori, noi sostanzialmente come ricordavamo nella puntata precedente l'abbiamo diviso nel settore storico-culturale, in quello linguistico, prettamente insomma su due i campi di applicazione, quindi sono tante le attività ma poi rischiano di rimanere chiuse nei nostri archivi, nei nostri server e quindi abbiamo l'esigenza di comunicare di più, soprattutto di avere un rapporto più diretto con le nostre comunità per cui l'istituto è stato poi fondato e per cui opera e quindi la volontà di comunicare tramite i soci, tramite un sito internet che presto avremo nuovo, ma anche proprio di essere più presenti sul territorio in modo che la popolazione aveva più modo di avere un contatto diretto sia con le opportunità che dà l'istituto ma anche con i servizi che è una cosa che poi magari abbiamo anche il tempo di approfondire. E appunto c'è questo metodo un po' tra virgolette alla vecchia che è quello dello sportello, degli uffici, ci sono delle novità in questo senso? Quanti sono? Sì, e noi proprio grazie anche a un finanziamento ad hoc che ci arriva dalla legge nazionale che è la legge 482 del 1999, riusciamo a garantire uno sportello linguistico fisico, cioè noi abbiamo un operatore stipendiato dall'istituto Cezza Desanna per tutti i tre comuni, quindi abbiamo uno sportello linguistico a Pieve di Linallongo, uno a Colle Santa Lucia e uno a Cortina d'Ampezzo. La novità sostanzialmente è che a Pieve di Linallongo, che era l'ultimo comune diciamo che ci mancava, abbiamo inaugurato proprio nel mese di dicembre uno spazio fisico che è proprio definito l'ufficio ladino, sportello linguistico, in piazza adiacente al municipio, dove in tutte le mattinate dal lunedì al venerdì, alla stregua di quello che succede a Colle e a Cortina, noi garantiamo la presenza appunto di una persona che si occupa di tutto quello che è lo sportello linguistico, ovvero il servizio che noi diamo sia all'amministrazione comunale che spesso ha la necessità o la volontà di interloquire con la comunità anche nella lingua di minoranza, quindi penso a particolari comunicati, a volte anche alcune delibere vengono tradotte in lingua ladina, ma soprattutto a tutto quel mondo dell'associazionismo, della comunità locale che sempre di più, e questo lo dico anche con orgoglio, sempre di più utilizza la lingua ladina anche, non so, faccio un esempio, nella locandina per la manifestazione, il concerto piuttosto che la manifestazione di paese, vuole utilizzare la lingua ladina ma magari non lo sa scrivere correttamente e quindi c'è l'operatrice dell'istituto, l'ufficio apposito che aiuta le singole persone anche magari nel correggere brevi testi in lingua ladina, questo è un incentivo anche all'utilizzo maggiore. Poi sono altri servizi per dire tutto il servizio bibliotecario senza costringere una persona a partire da Cortina d'Ampezzo o da Rabba per raggiungere la sede principale dove abbiamo anche la biblioteca dell'istituto, è possibile richiedere il prestito bibliotecario e noi garantiamo anche questo servizio. Io ci credo molto in questa presenza sul territorio perché appunto permette alle persone di essere agevolati nell'utilizzo della lingua di minoranza. Chi sono gli operatori? Sono volontari? Sono soprattutto giovani? Diciamo che l'istituto gode di un'ampia schiera sia di volontari che di collaboratori occasionali. In questo caso ovviamente è anche lo scopo della legge 482 di valorizzare, le risorse umane del territorio, quindi noi abbiamo sostanzialmente tutti gli operatori sono ragazzi in questo caso del posto che ha fatto la loro formazione, alcuni in campo linguistico, altri no perché poi le risorse umane a disposizione sono quelle che sono, che però si stanno specializzando proprio nell'utilizzo della lingua ladina, nello studio, anche perché non l'abbiamo detto, ma poi gli operatori dello sportello linguistico nei momenti in cui magari non hanno l'utenza presente in ufficio possono dedicarsi alle attività, in questo caso soprattutto linguistiche dell'istituto e quindi per l'istituto è una risorsa molto molto importante avere a disposizione questi giovani locali che si appassionano della lingua ladina. In questo modo voi vi rivolgete ai ladini in sé per sé, per quanto riguarda invece l'attività per far, per diciamo diffondere la vostra cultura anche a chi non la conosce? Ecco diciamo che questo forse è un aspetto curioso che poi questi uffici, c'è anche per esempio la nostra sede di Colle Santa Lucia, è spesso frequentata da persone che non sono ladine ma che magari si incuriosiscono e quindi diventa anche uno strumento per divulgare non solo la lingua ma anche la cultura, le tradizioni, le peculiarità del territorio. Abbiamo fatto tutto un lavoro sia su Cortina d'Ampezzo che su Livina Longo di riscoperta per esempio dei vari borghi, quindi organizzando delle visite guidate sul territorio per riscoprire certi aspetti anche storico-culturali o etnografici particolari e questo ovviamente è più sentito e più richiesto da chi viene da fuori. Le associazioni, lo sappiamo, sono sempre in grande difficoltà per vari motivi, un aiuto però potrebbe venire dall'Europa, in particolare mi riferisco all'Euregio, ci parla di questo e anche del suo ruolo all'interno di questa organizzazione? Sì, volentieri perché l'Euregio è comunque una realtà poco conosciuta ma che secondo me nel futuro può rappresentare una vera e propria risorsa, non solo dal punto di vista economico ma anche sociale. L'Euregio, diciamo che in Europa esistono più Euregio, quello di cui noi parliamo è l'Euregio Tirolo su Tirolo Trentino, è un Euregio ormai nato diversi anni fa, tecnicamente si chiama GECT, che è questo gruppo europeo di cooperazione territoriale, è un organismo riconosciuto dalla Costituzione italiana, in questo caso anche dalla Costituzione austriaca perché è sovranazionale, quindi trasfrontaliero, e è un organismo che opera appunto in territori che non hanno una omogenità amministrativa e che però hanno in comune in questo caso le radici storiche nell'Antico Tirolo. In virtù proprio di questo legame storico anche le tre comunità ladine di Fodomco e Leampezzo hanno sempre, fin dalla fondazione, diciamo partecipato ai lavori fondativi di questo gruppo europeo di cooperazione e da alcuni anni, se non vado errato era il 2014, è concesso a queste tre comunità di inviare in uno dei loro organismi costitutivi dell'Euregio un rappresentante. Dal 2019 questa rappresentanza viene votata in consiglio comunale e i tre consigli comunali di Cortina, Colle e Livina Longo mi hanno disegnato come loro rappresentante delegato, rappresentante politico all'interno dell'Euregio. Ovviamente territorialmente non facendo parte in questo caso né della provincia di Trento né della provincia di Bolzano, non è immediato che tutto quello che viene deciso a livello euroregionale poi abbia l'applicazione pratica anche sul nostro territorio, però alcuni passi avanti sono stati fatti, adesso solo per entrare nel concreto a febbraio scade l'iscrizione per gli studenti residenti per esempio nei tre comuni che frequentano la quarta superiore di poter frequentare il prossimo anno l'anno scolastico in un paese europeo. Questo è un progetto finanziato proprio a livello euroregionale, in questo caso dalla regione Trentino Alto Adige e viene concesso proprio in virtù di questi legami, di questo percorso che si è stato trasfrontaliero, viene data la possibilità anche ai nostri ragazzi, sono stati tanti, non tantissimi ma ci sono stati chi ha sfruttato questa opportunità che è sicuramente una bellissima opportunità anche perché le spese sono coperte al 100%. Ecco io dico sempre che l'euregio ci permette di passare dal territorio di confine a una porta verso l'Europa e quindi avere un respiro europeo che di questi tempi fa bene secondo me non solo a noi singoli cittadini ma alle comunità stesse. Noi siamo in chiusura, il tempo è volato, ringrazio ancora Danny Dorigo, il direttore dell'Istituto Cultural Adincesa Dejean. Grazie a voi, la prossima volta magari vengo a trovarvi io, volentieri, ti aspettiamo. Grazie a voi per averci seguito, arrivederci. Grazie a voi.